Nel pacchetto di risorse destinate alla Toscana dal Fondo di Sviluppo e Coesione ci sono 21 milioni di euro che saranno utilizzati per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo ponte a Buriano in provincia di Arezzo. Credo che sia una grande notizia non solo per il territorio provinciale, dunque la provincia di Arezzo, ma per tutta la regione toscana, anzi vorrei dire di più perché lì accanto a quel ponte che faremo, il ponte nuovo definitivo, c'è il ponte Buriano, quello disegnato da Leonardo da Vinci. Dunque credo che ci sia un'immagine forte dell'Arno, il fiume naturalmente che caratterizza più di tutti la nostra regione toscana e questo ponte che verrà costruito nei prossimi anni. Attualmente tutto il traffico veicolare è dirottato su un ponte provvisorio inaugurato a settembre 2023 in modo da tutelare il ponte romanico ripreso probabilmente da Leonardo da Vinci nello sfondo della Gioconda. L'opera è stata realizzata in tempi record dalla provincia di Arezzo che ora avrà il compito di elaborare la progettazione definitiva e proseguire con la realizzazione del ponte a Buriano bis entro 5 anni. Oltre al ponte sarà realizzata la nuova viabilità di collegamento a questa infrastruttura con ben due nuove rotatorie. È stato un procedimento particolare perché intanto è stato realizzato un ponte provvisorio, non banale come realizzazione per le questioni idrauliche e quindi anche con il contributo del nostro genio civile. E poi ora si realizza un'infrastruttura per cui la regione toscana e in particolare il presidente Gianni investe qualcosa come 21 milioni di euro. La decisione di inserire il nuovo ponte nella programmazione FSC è stata concordata con le istituzioni locali a partire dalla provincia e dai consiglieri regionali eletti sul territorio sia di maggioranza che di opposizione a dimostrazione dell'importanza che questa infrastruttura ha per il territorio della provincia di Arezzo. Ma veramente un bel gioco di squadra nell'individuare nel ponte di Buriano, ovvero nel nuovo ponte di Buriano che supera e sostituisce quello provvisorio che meritoriamente il presidente Polcri come provincia aveva da poco realizzato, la prospettiva per utilizzare al meglio questi 21 milioni. Per quanto riguarda invece lo storico ponte a Buriano, una volta individuate le risorse necessarie, in quanto bene storico e artistico verrà consolidato, restaurato e destinato così alla viabilità ciclopedionale, entrando a far parte della ciclovia dell'Arno. Un progetto complessivo, non solo una nuova infrastruttura che migliorerà la viabilità ma il recupero di uno straordinario bene culturale. Mobilità e cultura insieme mi sembrano un bel connubio. Grazie a tutti.